buongiorno ragazzi sto 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 perderà cosa sto facendo sto scusco un uoah ci sii immagini di chanissiani turkey sonci la shane di di berg non ogni tanto ai ministri mary di domenica basta io lascio io lascio i verdi questo è fornita quei player cadono nel vuoto intanto stanno andando dai diamanti per in hub ha rotto due letti tra l'altro comunque ho capito perché non riesco a far sguildare perché mi si tolgo il shift non so ma mi si tolgo toglia 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 guarda 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 non sto cliccando shift l'ho cliccato una volta però non rimane shift guarda appena fastidio uscio 6 diamanti di smeraldi mi butto nel vuoto guarda come si fa blu guarda ora ti insegno come si fa levati no ho sbagliato ci hanno già rotto il letto e lo so che non mi voglio spaccare il letto li voglio buttare un andato goodbye signor blu fai lei ha votato io ho votato sono l'unico che ha votato io ho votato pure differenza tua no io ho votato adesso lo dico a voce perchè un modo non posso votare c'è vinto e che vinto il pd c'è non comunque blu parliamo degli alberto il film sono blu è votato bene perchè secondo me è sbagliato qualcosa controlla io ho dato anche l'aiuto di più come no io ho essendo una pc o il prodotto suele mi baso a quello che mi ha trovato l'ho detto a guarda la guarda ma da te non posso ma non hai ancora il pc e no il pc però l'è che è successo sì hanno messo la tv sono troppo pesante e mi hanno messo un hard disk quando me l'hanno già stato che era troppo leggero non mi aveva supportato la pc quindi pc andando in tv quindi allora mi sto piacendo mettere il pd l'harddisk fai come ti ho detto e basta vabbè con la blu però non ho il denaro per abitano quindi tanto cosa uguale a quello che pensavi di spedere quindi è esatto cosa faccio mi lavoro tutta l'estate e poi mi guido un bucci adesso rimango con quello che adesso me lo devo guardare bravissimo lo vedi e allora vedrò le dividone in salare gli abbandonati ho fatto non sono un po' provo di saluto sono da giocare a fortnite se vuoi giocare dopo quando mi stai in radio fornay non mi piace però non sono il libro mi so scegare perché c'è un verde fermo impalato qua io lo un po' a te poi ma voi mi siete accorti che i verdi ci stanno facendo un ponte praticamente accanto? sì, però io sono in base d'oro e c'hanno l'arco e io però ci sono lato sotto non è andato là in alto no, guarda, ce ne siamo andati, sono sopra di loro sshallon t'abbiamo mai visto dove parte di questa casa potrei chiellarli ti aspetto, io mi butto e devo raga, potete venire un attimo a casa che ci sta soltanto un verdognello che ci vuole di spiegel letto in un malo modo no, non ti abbiamo visto, tranquilla stai sshallon, non ti abbiamo visto ah, ma ieri l'avevamo rotto il letto l'avevamo rotto io ah, ma quando? cioè io ho tutto il tranquillo che devi venire all'opera il letto sono andato a me che mi buttavo a me eh, mentre saltavi ti l'ho rotto sono andato a me ah, ecco ho scusato vogliono, ci no, no, no no, no, no non ne sta dando un via мало no, no, qua, nel c'è l'ho fatto io tutto quanto e l'ho scomparo io tutti i miei rubri non c'era nessuno dietro di te che ti stava salvando no vedi grandissimo cioè tu eri entrato e Raff mi ha detto tu devi dire tu devi quando entra brudi valla a tutti fai finta che fa l'intro perchè tu mi dici poi quittavi come non sai se tu quittavi e poi c'è diventato come dire a te degli infami ci hai detto ma Raff mi dice io e Raff stavamo in voca chat appena entravi in chat io dicevo vada tu c'è un altro io favo io favo chi l'ha? chi l'ha? chi l'ha? evitami la roba al fuori quale? quale? quale roba? quale ti sei preso? ok tieni l'ho zerpato è vero? eh sette mezzi di venni scusate gli smeraldi? quali smeraldi? quali smeraldi? no non è vero quali smeraldi in vita mia? cosa hai con Valenti? non pare che sono dei miei hander c'è sono ti pare? all'alto si sapevi ti pare? ti ha po' tu ti puoi dire i hander sono su rarraggio per arrasciare i rossi vengo che sono fatti i rossi da questo hanno 5 e 11 di vita vengo io non mi pulso quello che si chiama iquad vola 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 che a me non ho fatto una chile in tutto ciò ok uno l'ha eliminato sono troppo orro ah vieni c'ho delle cose belle spese perché io l'ho fermata ma una di vita se lo uccide vieni c'è l'invisibilità che tra l'altro inutile gli invisibili troppo si ma te sciallo e tu lo vuoi trollare un po' poi se il casco dei punti è anche questo sottotitoli poi se vuoi non sparare il marino un po' guarda che bella no vedi al centro guarda il centro ma che cavolo ma che cavolo ha più quello il ghiaccio non so che ci sento fa valetto ah buono le mie conti in squadra è morto c'è non è stato più giocato ma c'è un gioco wow io ho avuto i due nostri vicini di meno di due no non so non so nemmeno rischio E' orto, mamma... Chi stia? Il mio è orto! I due tizi Siamo dopo la rod! Che razzo di rod! E' pizzo! Non lo immaginavo! Aspetta! Il mio cuore è vivo! Vabbè! Stayward! Manca ancora la mia! Il mio! E' blu! Ma il mio! Ma invece no! E' vivo! Devo andare tipo qua! Il mio è abbastanza bravo! Tu compagni! Si! Continua più verne in tanti! Non ho sciato due! Visto! Aspetta! Ma dove vincere il game? No! Eh? Dove vincere il game? Dai vinciamo sì! Sì sì! Mi so che era in finale! Gio' non sono andato! Gio' non sono andato! un'altra cosa ho lasciato uno e lui era messo l'addio blu non si stesse morto ah no c'è ragazzo non è lui in quell'isola oddio mio allora ma voi fino a che ora giocate? 5 minuti ma voi ci andate a scuola voi? no io ho già dato non è male merdi arrivano ma che cavolo? lanciano palleri fuori questi tizi arrivano merdi ho distrutto il letto ho distrutto il letto dei verdi bravo manca solo il pieno è stato distrutto non vorrei che mi mi avesse laggato c'è scritto in chat e rotto ah me lo amaro com'è giusto non è giusto ma io sono la città ma non è giusto non è giusto uno dei diamanti del blu no vabbè allora dove riesco a muovermi mi sto bloccato e sblocco mi sto bloccato e sblocco ok mi sto sbloccato il lag è addio che mi teneva sotto scacco ok sono tutti pieni di vita ci aspetto ragazzi cosa fai Emilio? gira sul posto così a casa vieni è lag oddio mi muovi mi muovi muovi bastardo mi faccio miracoli aiuto in base eh non muoio oh aiuto aiuto sono morto bella si più bella partita di sempre va bene va bene ma che è? che è sta mano? è un amico io ho pure fatto copia e colla per la candidatura per farvi capire quanto mi sono impegnato a diventare al corregolo comunque domani mi verrà detto quando se siete peccato lo so se ce l'hai appena detto eh beh ufficialmente verrà detto dov'è è vero e ricordati che sono belle moci e vabbè quando ci saranno se ci saranno siamo sei senior helper di cui sono solo due online sei senior helper e Ale che vuole essere depexo madonna e cinque Ale non lo possiamo cioè Ale non lo possiamo depexare mi spiace e cinque di nuovo helper di cui sono uno online può andare in vacanza oppure puoi fare l'helper come faccio io anche io faccio l'helper ormai aneper che lo faccio banno la gente mi diverto a farmi io mi diverto a scrivere a scrivere motivi del ban flood quelli sono i motivi del ban flood e spam basta sono fortissima scrivo velocissimo flood ormai guarda io sfortunatamente ne ho preso da tia cosa? eh sfortunatamente a me se mi fanno uccidere le scatole e banno così è più brutto la più brutta blu pinguina ha chiesto di essere sbannato sono passati i vattori ma anche no ok allora si può fare vale Ale puoi fare quando c'avrà voglia se c'è la voglia però non sbagna i suoi amici io ho pure pinguina amica qua su cosa? su epix sto server è bello vero? dite che è bello sto server vero io picco ancora attenzione fugate gialli voi mi avete fettato e io vi batto nabbi ah 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 noobs 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 prossima partita io voglio fare mamina ci rimangono? green cringe ragazzi benvenuti in questa nuova puntata cringe il fratello sta a fare la spesa la spesa lion ci sei